Sì, la Prefettura ha incorso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, dove si è discusso anche di quanto è accaduto alla stazione Termini di Roma, la ragazza di Tel Aviv accoltellata. Coltellata da un clouchard di 24 anni, sarebbe stato identificato, si tratta di un uomo polacco con anche dei precedenti, sono ancora ignoti i motivi per cui abbia aggredito la ragazza, l'avrebbe seguita sino alla biglietteria dove lei si stava recando proprio per fare il biglietto e per andare a Fiumicino. E dunque in questo momento sono in corso le indagini per trovare l'uomo, si sta cercando in tutta Roma ma anche fuori Roma, lo dicevamo si tratterebbe di un clouchard, un ragazzo di 24 anni di cui la madre aveva anche denunciato la scomparsa, di cui lei non aveva saputo più nulla, ha viaggiato in diversi paesi europei, poi in Italia e adesso sarebbe accusato di avere accoltellato la donna israeliana. E' per il momento dalla prefettura con Marco Quiglia tutto a vola linea.